C'è tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui con Vailox, oggi sono qui ragazzi per portarvi un nuovo video informativo di Call of Duty Black Ops 3 perché come molti di voi sapranno, ieri ragazzi è uscito un nuovo aggiornamento che è andato ad aggiungere delle nuove armi, dei nuovi vestiti, delle nuove animazioni, delle nuove provocazioni degli specialisti insomma le solite cose ragazzi che aggiungono in ogni aggiornamento, quindi appunto è uscito questo nuovo aggiornamento e oggi ve ne parlo semplicemente ve ne parlo e come sfondo vi metto una partita fatta a caso, quindi non fateci nemmeno caso, è una partita a caso, non fateci caso è una partita a caso, perfetto vabbè comunque appunto è una partita a cui non dovete dare importanza perché come sempre appunto lo sfondo in questi tipi di video è secondario comunque appunto voglio fare oltre questa premessa un'altra premessa, un'ulteriore premessa, ovvero che se questo video ragazzi raggiungerà 10.000 like come sempre, come ormai di consueto, come da routine, quando appunto aggiungono delle nuove armi farò uno spacchettamento con le 8.000 cripto chiavi che mi sono rimaste per andare appunto a trovare tutto ciò che è stato aggiunto quindi se questo video raggiunge 10.000 like lo facciamo, tra qualche giorno ragazzi ve lo pubblico, quindi sta a voi comunque a parte questo un'altra cosa che volevo dirvi è che a sto giro si sono proprio regolati ecco per una volta hanno aggiunto pochissime cose, forse perché il gioco sta finendo, ad ogni modo sono veramente poche le cose che hanno aggiunto solo due armi, qualche vestitino, qualche animazione, niente di eccessivo cioè gli ultimi aggiornamenti erano, è proprio esponenziale, aggiungevano 10.000 armi, erano delle cose veramente mastodontiche oggi invece semplicemente due armine, però va bene così ragazzi, non dobbiamo stare lì a spacchettare per 40 minuti apriamoli, troviamo e basta comunque ragazzi non perdiamo tempo, vi metterò comunque qualche immaginina giusto per farvele vedere per darvi un po' un'idea di tutto ciò che appunto è stato aggiunto però chiaramente essendo un aggiornamento uscito da pochissimo non è che ci sia più di tanto cioè o io mi sono informato, ho cercato immagini qua e là, ho visto qualche gameplay quindi qualcosa ve la posso già far vedere, qualcosa ve la posso anche già dire però chiaramente nei limiti ecco visto che si tratta di qualcosa molto recente comunque ripeto partiamo dalle armi, sono state aggiunte appunto due nuove armi che sono rispettivamente una katana e una pala il nome corretto non è questo ma per esempio la katana si chiama Path of Sorrows presumo sia questa la pronuncia, ad ogni modo tradotto letteralmente è percorso di dolore però noi chiaramente la chiameremo in maniera molto più simpatica katana come abbiamo sempre fatto per i termini strani mentre l'altra appunto la pala il nome corretto sarebbe Ace of Space quindi asso delle spade ma anche in questo caso la chiamiamo vaffanculo pala e basta cioè senza vaffanculo pala e basta comunque ho visto qualche gameplay di queste due armi ragazzi e per ora da quello che ho potuto vedere la pala è un'arma normalissima cioè veramente un'arma corpo a corpo normalissima vi metto appunto qualche immaginina, due immagini una magari dove si vede appunto tra le armi e una magari in gioco però dico ho visto un gameplay, l'unico gameplay che ho trovato di quest'arma in circolazione ed è normalissima anche il movimento quando va a colpire è una cosa banalissima cioè proprio non mi dice nulla mi aspettavo chissà quale grande movimento per colpire con la pala in testa di nemici invece nulla è un colpo veramente normalissimo anche a livello proprio di prestazioni da quel che ho visto è normale, cioè non mi dice nulla però magari mi sbaglio ragazzi poi la proveremo e vedremo effettivamente di cosa stiamo parlando o magari salta fuori l'arma della vita però da quel che ho visto mi sembra una cosa veramente normale cioè un'arma corpo a corpo come tantissime altre anche a livello ripeto di movimento, di prestazioni, di tutto quanto però comunque nel complesso l'idea è carina cioè che poi l'idea voglio dire cioè non è niente di geniale io lo dico da sempre l'unica arma che vorrei che aggiungessero veramente sarebbe una fottuta motosega perché hanno messo tutto e una motosega ci sta ragazzi è l'unica cosa appunto che manca e che sarebbe originale, che poi originale neanche tanto però ci starebbe ad ogni modo una pala in sé non è niente di particolare ci sta ma non è niente di particolare un po' come una mazza da baseball voglio dire ci sta a usarla però non è che stai parlando di chissà quale grande invenzione è una fottuta mazza quindi ci sta per quanto riguarda invece ragazzi la katana ripeto ho visto anche questo caso un gameplay questo a livello di prestazioni vi posso dire che è un po' più intrigante perché di base l'arma assomiglia tantissimo al canto della furia i movimenti quando la tieni in mano e corre è veramente molto 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 simile anche l'animazione se non sbaglio mentre le prestazioni sono molto diverse da quel che ho visto cioè l'arma è molto rapida a colpire ha un colpo molto limitato cioè quando colpisce con l'arma il colpo sembra quasi un colpo molto chiuso cioè in pratica l'animazione non è una cosa molto estesa che va a coprire gran parte dello schermo cioè un colpo molto piccolo cioè mi trovi anche difficile da spiegare una cosa del genere diciamo che è molto moderata a livello di animazione però a livello di prestazioni dicevo appunto molto veloce però diciamo che la cosa un po' meno positiva è che da quel che ho visto non ha un grande aggancio cioè solitamente è sempre così più l'arma è veloce meno è forte l'aggancio però non lo so vedremo ragazzi da quel che ho visto questa è l'impressione che mi ha dato molto molto simile al canto della furia però a livello di prestazioni molto più veloce con poco aggancio però vedremo ripeto tanto la troveremo quindi avremo modo di provarla e di dare un parere vero veritiero ecco dopo averla appunto provata con le nostre mani quindi queste sono appunto le due nuove armi ragazzi che sinceramente mi intrigano non più di tanto se proprio devo essere sincero nel senso se proprio devo dirvelo con sincerità non sono così tanto attratto da queste due nuove armi perché di fatto non sono niente di particolarmente geniale parliamo invece dei vestiti degli specialisti ok quindi caschi i corpi lì c'è qualcosa che invece mi intriga mi intriga veramente assai perché perché qua troviamo ragazzi delle teste e dei corpi un po' particolari innanzitutto vi dico che vi metto subito un'immagine dove potete trovare tutte le tutti i vestiti di questi specialisti le teste insomma ve le metto proprio tutte ho trovato un'immagine su internet dove ci sono tutte insieme le nuove i nuovi vestiti potete vedere tutti insieme tra queste ragazzi c'è qualcosa che mi intriga veramente assai soprattutto tre cose tre teste anche se poi gli altri corpi lo stesso mi intrigano tanto però comunque le tre teste che ho visto mi intrigano veramente un botto ho detto questa parola troppe volte inizia a diventare abbastanza imbarazzante dicevo le tre teste che mi piacciono di più sono ragazzi quella con gli occhi del panda cioè quella a forma di panda ecco quella con un panda disegnato sopra quella del cowboy e poi quella testa tutta bianca con gli occhi neri non so se riuscite a vederle cioè se guardate sicuramente le riuscite a notare tra tutte appunto le immaginine e queste sono le tre che mi piacciono di più mentre per i corpi lo stesso mi piacciono tutti abbastanza qualcuno mi piace un po' di più degli altri però in linea di massima sono tutti abbastanza carini ecco diciamo che a sto giro i vestiti degli specialisti mi gasano più delle armi se devo essere sincero ragazzi mi gasano molto molto di più parlando invece dei gesti qua ho potuto vedere già qualcosa su internet ho visto qualcosina sembrano abbastanza carini l'unica cosa che ho visto che mi è rimasta molto impressa era un gesto del battery dove praticamente il personaggio prende la macchina della guerra in mano spara in aria come siamo soliti vedere in altre animazioni poi si mette a ridere proprio a crepa pelle e poi lancia le armi ed è abbastanza abbastanza arrogante questa cosa mentre un'altra cosa che ho visto ragazzi è sempre appunto dei gesti di queste cose qua ho visto un gesto dello spectre che praticamente va dietro un robot e praticamente con l'enforcer quindi l'elettrificatore scossa il robot come se avesse un taser in mano lo scossa e lo uccide e pisce lì molto molto ignorante anche questo mentre un altro che mi è rimasto impresso l'ultima appunto di cui vi parlerò poi gli altri ragazzi li vedrete nel senso non è che posso stare qui a descrivervi tutte le animazioni l'ultima che mi è rimasta abbastanza impressa è una del reaper dove praticamente si vede appunto il reaper che fa nonno col dito lo muove avanti e indietro appunto come per fare nonno e poi si sdoppia e si sdoppia praticamente ci sono tutti i vari cloni tre cloni che si mettono appunto tutti a fianco facendo dei gesti strani molto imbarazzanti la squadra genio raga abbastanza abbastanza imbarazzante comunque questi sono appunto i tre che mi sono rimasti più impressi poi chiaramente ne ho visti qualche altro sono tutti abbastanza particolari ecco diciamo che a sto giro è molto più carino ragazzi sono molto più carini i vestiti i gesti queste cose qua che le armi le armi sono abbastanza banali devo essere sincero anche a livello di prestazioni da quel che ho visto comunque un'altra cosa che è saldata fuori è che il famoso rumor del colore della dark matter è variabile perché si vociferava che sarebbe uscito praticamente la possibilità di cambiare il colore della dark matter era un fake cioè in pratica si è dimostrato che non hanno messo nulla quindi tutto quello che appunto girava sul web erano tutte voci false vabbè insomma me lo aspettavo sinceramente cioè voglio dire che senso avrebbe avuto cambiare il colore della dark matter voglio dire magari lo metteranno però io non ci vedo neanche tanto senso nel senso è quello il colore viola insomma quello dell'universo diciamo che senso se lo fai verde voglio dire non è più quello è un'altra cosa però vabbè comunque ragazzi questo era appunto un video informativo io vi ricordo che a 10.000 like arriverà appunto un pack opening tra qualche giorno quindi sta a voi e niente vi ringrazio per aver visto questo video ditemi la vostra riguardo tutto quello che appunto avete visto tutto quello che hanno aggiunto se l'avete visto se avete visto qualcosa in più insomma quello che volete e niente noi ci becchiamo ragazzi niente stasera alle 18.01 video bella